Musica Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Torniamo su Squid Game Per affrontare le ultime due prove Pochi di noi resteranno in vita per arrivare alla prova finale Quella del calamaro E soltanto uno di noi vincerà Tutti gli altri in qualche modo moriranno E io ho già un pochino di ansia Però, 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 però L'importante è che non venga Franci Perché Franci ti lo yarda sempre Ma lo deravamo Episodio finale Allora, è un potere di Minecraft Mi piace Guarda, c'è pure scritto Squid Game, episodio finale Esatto Nelle specchi sicuramente moriamo tutti, in realtà E non c'è la finale Guarda tutti i soldi Guarda i Montepremi Fatemi vedere Scusate, ma Montepremi No 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 Steffo Sì, dimmi, dimmi, dimmi Io voglio esattamente 40.000 mi piace E 5.000 commenti di Montepremi No, no Ecco di nuovo La quinta prova inizia da breve Preparatevi Allora, allora, allora Chi va per primo? Iniziamo a decidere Loco, loco Ah, questo qua Questo, questo esatto Chi è, scusa? Non lo so Mandiamo lui Fai tu Però sembra un atletta Guardate come corre e salta Vai per primo Mi sa che il giocatore numero uno Guardalo È lui, è lui È così strano Che potrebbe picchiarti Sì, no, no Lo mandiamo per primo Sì, ma non uccidettelo, ragazzi Ci serve vivo Ci serve vivo Eh, altri ultimi come fa a fare i vetri Assomiglia a Franci Quindi manderei loro due assieme Ma non è vero Non è vero Franci secondo Franci secondo Franci secondo Oh, no, no Fai loco Oh, mio Dio No, ragazzi Ragazzi Ho paura Io sto per ultimo Io ho vinto la scorsa volta Quindi sto per ultimo Benvenuti alla quinta prova Il gioco dei vetri Davanti a voi ci sono 18 piattaforme di vetro Ok 18 sono tante Una piattaforma è creata con vetro ipersensibile Oh Tra l'altra con vetro rinforzato Raga, va mato tutti Sono i veri rinforzati Possono reggere Non lo so leggere Eh, il vostro peso Il vostro peso Quelli ipersensibili si distruggono appena sionati Non avete modo di distinguere che il vetro sia quello giusto No, io sono un esperto vetraio Sì, non stai facendo un po' Vai Qui potete iniziare a saltare Non aprire il timer si avvierà Buona fortuna Guardate, guardate il riflesso dei vetri Magari si capisce solo Guarda da vicino C'è il tempo Se lo salta sopra si vede il riflesso dei vetri Ragazzo strano, prego Ragazzi, è partito il timer 470 secondi Io sono un esperto di tende Può essere utile? No, non serve a nulla No Quella è la tenda rossa Scusate, facciamo le mutazioni Secondo voi Vediamo se ci sono delle differenze Scusatemi Guardate bene Eh, ma se c'è scritto che non ci sono Eh, ma magari c'è qualche dettaglio Stef In qualche modo è partito Oh, è partito Oh, che impavido Ok Vai, vai avanti Vai avanti Bravo Il metraio Ne sa Sì, sì, vai Bravissimo Continuo Sì, sì, sì Vai, vai, vai Vai pure Vai pure Io non lo seguo Ho paura È matto Non lo so Non mi sembra tanto sicuro Dai che sei coraggioso Vai pure Aspettate Vediamo Salta Bravo Ragazzi, un applauso È bravissimo Quello di voi Può andare avanti Per favore No, no Ragazzi, oppure di morire Per favore Facciamo insieme Un secondo Marci Facciamo Sassu Quarte Ragazzi Ma va sempre dritte Questa è la strategia È quella la strategia Ma è tutta destra Quindi Ma quindi Stai Secondo Ragazzi Non salite più di due Su un vetro Occhio Occhio Che si rompe Ok No, sta andando in diagonale Forse Attenzione Ragazzi Un mago Un mago Un mago Ma con noi Ce la facciamo È fatta Dai, vado io Nel prossimo Aspetta Vai, vai Sì Sì No Vai, vai Vai Guarda, io arrivo dopo Ragazzi Al prossimo Cade Ve lo dico io No È sempre un po' Vento St'affattuna È morto È morto È morto È morto Sono abbastanza sicuro Ragazzi Io potrei morire Con il salto in diagonale In realtà Ok Per favore Non fare questi errori Oh mio No, ragazzi Non ci vai Ricordiamoci Io voglio Tre destra Poi diagonale E poi di nuovo qua Ah ma tanto abbiamo la scia dei serpentini Guarda lì Ho preso la fitta in questa stanza Mi spiace Ragazzi muovetevi però Non fate Chi va? Allora faccio No Perché sei andato Ho sentito un vetro rompere Ma non lo potete Carne Campione Ragazzi Tutti Allora Allora Scegli pari o dispari Io ti dico Quello Guarda dietro di te Chi non è nessuna piattaforma Perché Secondo Secondo me Deve venire lui Vai Franci E no Franci Sei l'ultimo Non sono più l'ultimo Ragazzi Cadete in punti inutili Io vi faccio fuori Esatto Sì Dai Franci Allora Ragazzi Stiamo La tua Tranquilo Ho paura Ho veramente paura Io non voglio andare Ve lo dico Io non vado nemmeno Ma non ci penso nemmeno Ragazzi Allora Ho una raccomandazione valida Io sono sempre morto Al primo minigame Ok Vai Non morire Ti prego Non morire Faccio io Della croce Aiuto 50 e 50 Diceva lui Vai vai E quello vai Ok Vai loco Vado Ragazzi Sta andando malissimo Stiamo sempre sbagliando Ma ragazzi Che stanno combinando Ma no Ragazzi Si è rotto Quello di loco Che era quello giusto Come è possibile Che si è rotto Ma io ve l'ho detto Che quello non era giusto No 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 Era quello giusto No ragazzi È a tre destra Diagonale Dritto Nico Per qualche motivo Si è baggato Esatto Nico Vai avanti Vai 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 che sei baggato E magari Perché Non lo aspettate Ma così Però poi abbiamo il dubbio No 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 Secondo me Era va meglio Magari sei baggato Solo in uno Sì Io proverò Fortunato Nico Vai Nico Vai Allora Adesso Sinistra No no Io non mi prendo Sì Vai dritto Non può essere Sempre in diagonale Bravo Bravo Ragazzi Se io salto da Nico E cade Adesso si è stato dritto Provo io Provo io Vai fare Siamo morti tutti Aspettate 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 Un'idea Un'idea Siete pronti Signore Di Squid Game Può Darci Il potere Come si iscrive Il drago Di Sharon Potrebbe non capire Buongiorno Sheldon Ecco ecco Così magari capisce Shenron Shenron Sheldon è quello Grazie Eccoli Sono un genio Anche Locus Allora adesso Eh ma se mi sono pagato Ragazzi Allora No è Per ultimo Laterale 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 No allora Nico per ultimo ragazzi Per favore Poi diagonale No aspetta No no Dritto 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 Destra Esatto E poi dritto di nuovo Diagonale 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 Ok Voi ci superate tutti Perché noi Perché sì Noi siamo stati coraggiosi Sì esatto Allora Vi prego Cane vai No basta Io Ragazzi 300 secondi Siamo tutti No Esatto ragazzi Sei rinato Sei rinato Tocca a te Io non sono rinato Ha ragione Almeno a Zeccalo Almeno a Zeccalo Vai dritto Stavo cadendo Vai dritto Diagonali troppi Non potranno essere Dritto Vai dritto Secondo me è diagonale E se è buggato come Nico No no Vai È tornato È tornato È tornato È tornato Ok fatelo dare Lui è coraggioso Guardalo Vada vada Non si sbaglia Non ha paura di niente Ministra Sapevo Lo sapevo Vai campione Andiamo È un po' scarsino Il tizio strano qua Ragazzi Abbiamo un minuto Qui è dritto Qui è dritto Andiamo Dobbiamo andare veloci Sì Dai 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 Mi piace Dritto di nuovo Dritto di nuovo Lui come cambia No Prima o poi Deveva andare male Vai ragazzi Vai Allora Steph Qui è dritto Vai pure Eh no no Non mi prendo No Steph Che cosa No Che miseria Che è dalle un bidone Loco Tu sei bravo Lo so Bravo Adesso va marci No no Ora va marci Ragazzi 35 secondi Ragazzi veloci Non è Veloci No ma è bugato È bugato Tanto Nico il giocatore 1 Oppure li ha zeccati È giusto È giusto Corrette Gli ha zeccati Velocci Adesso Perè Qual è Non me ne ricordo Perè Qual è adesso Non me ne ricordo Sinistra 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 Vai perè Destra Perè Sinistra 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 Dritto 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 E destra Oh mio dio 4 secondi Ragazzi Due Anche io ho perso Metà vita Ma siete mati Questa roba Tenetevi pronti La sede finale Sta per cominciare Siamo in 5 Sì Buttiamo via Nico che è bagato Ieri ho salvato la vita Hai avuto fortuna No no Ci ho salvati Ci ho salvati Io sto con Nico Mamma mia che ansia Ragazzi Mi sudano le mani Sono arrivata Della piattaforma Due secondi Dalla fine Io non vorrei dire Ma Kendall Due volte su due Eh oh però Un po' di fortuna Però Kendall Quel montepremi lì Sono voi Guarda Bello eh Eh ma poi Chi me li dà Ragazzi Li voglio in carta Eh te li portiamo Nella big vanilla Poi Va bene Va bene Ok 5 secondi 5 secondi Ah Vabbè E il minigame Che mette meno ansia Perché Almeno ci dobbiamo pestare Tra di noi Però io faccio schifo Nei file Va bene Contro il più forte Contro Nico Io non sono più forte Dai Vai a vedere Tutti contro il più forte Vietato colpirsi ancora Oh mamma mia Ragazzi È pieno di guardie Guardate Allora Ma Tutto il perimetro Giusto Eccoci finalmente Nella prova finale Di Squid Game C'è il calamaro Qui sotto Steph È quello Allora Vi trovate al centro Di una figura Disegnata sul pavimento È sul calamaro Ok Ok È però tipo Fere qua puoi toccare O è considerato fuori Sì certo È tutto il calamaro L'obiettivo della prova È spingere gli avversari Fuori dalla figura Esatto Quindi fuori Ai bordi esterni Steph Ok Ma prova ad andare qua No Sì Qui sì Ci potrà essere solo un vincitore In questa sfida L'ultimo che rimane Vince Ok Va bene Va bene Sono pronto Ok Siete tutti troppo vicini a Nico Occhio No 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 Ascoltate Aspettate Lasciatemi in pace Loco senza Non ho l'arma Aiuto I più deboli I più deboli prima Non ho l'arma Loco Via Loco No ragazzi Avete buttato fuori davvero È morto Loco È morto Loco Ma Loco Non è stato Non viene eliminato ragazzi Ma è un altro bagazzo C'è Quello è baggato in tutto e per tutto Occhio eh Marci Marci vai via Ferri mi vuoi si dare uno contro uno Musiletta Ok Ora è stato eliminato Sono più ritardato Che ansia Salta Marci Salta No Schifo Chi è rimasto? Aia No è rimasto Nico C'è l'uno contro uno tra di noi Aspetta Ok Vi lascio fare Vieni qua No 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 Io mi faccio schifo Con i bastoncini così Ma che io Steph Non vedo più Non vedo più niente Ok Bene Fuori fuori Vai fuori No Era quasi fuori Mannaggia lui Gira gira Tondo Ma perché è messo? No 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 Colpisce le gambe Colpisce le gambe No Ginocchio Sì Mannaggia Oh mamma Sei pronta? Vai son pronto Andiamo È stata una bella battaglia però No Mincerai Finalmente Steph riesce a superare le prove Mincerai Sempre prima Ferri non dirlo che almeno No io non vorrei dire ma finalmente Riuscita a giocare qualcosa Guarda No Via Via Eccolo vantaggio di Niko Via Niko ha fatto una combo pazzesca Sto spargando l'iddo Non ci credo Come si è salvato Come hai fatto? Steph spingilo a destra Spingilo a destra Bravo Clicca clicca come non hai mai clicca Gira gira tondo No Steph Gira gira No Gira più Ok È buono No 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 buono Ma dai ma io ho messo 5 colpi su 6 Muoio Vai Muori No Ha vinto Vince Niko Ma è una gioia Pazzesco Ma è una gioia Il vincitore dell'edizione 2021 Arrivano solo a lui Wow Bellissimo Sono ricco Quanti soldi hai ricevuto? Quanto hai vinto? Ma 47 milioni Wow Puoi vedere lancia un po' di soldi? Eh no Sono su carta Sì 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 Gli erano messi nella banca Va bene Va bene Vabbè Vabbè Così Ha vinto Niko Va bene Va bene Un pochino sono triste Potremmo nel caso Fare la seconda edizione Del 2022 Anche se saremo nel 2021 Vedremo un pochino Fateci sapere se nel caso la volete Noi ci fermiamo così Sotto con un paio di altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao